Musica 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 Aurora Quanti anni hai? 9 Quindi fai le elementari, giusto? Senti, ma tu la letterina già l'hai fatta a Babbo Natale? Cosa c'hai scritto? Ehm, allora... Tante cose, però me ne ricordo poche E vabbè, dai tanto a Babbo Natale... Allora, in karaoke Quindi ti piace cantare a te? Sì Cosa canti? Le canzoni di violetta Anche tu? Ma tante bambine cantano le canzoni di violetta, lo sai? Sì Poi, a parte il karaoke Poi... Un diario segreto Ci scrivi tutte le cose tu, insomma Sì Poi? Una macchina per le unghie di Barbie Sì Qui ha le unghie, cioè ma ti piace fare le unghie? Quindi me le potresti fare anche a me un giorno Me le faresti un giorno? Sì Ho capito, va bene Quindi poi io lo dico a Babbo Natale se te le porta queste cose Ci facciamo una lietterata con Babbo Natale Va bene? Ok Ve lo dai un bacetto? Sì Ciao Ciao